Io sono Giacomo. Ciao, tu chi sei? Non è no. Io sono Maisha. De dove vieni Maisha? Io vengo da Bangladesh. Ciao, io sono Paola e vengo dall'Italia. Ciao, io mi chiamo Bianca. Ciao, io mi chiamo Yakutano e vengo da Cina. La Cina? Ma sai salutare il cinese? No, ok. Va bene. Assalamualaikum, mi chiamo Afra. Afra, dove sei? Dove vieni tu? Da Bangladesh. Ciao, io mi chiamo Leonardo e vengo dall'Italia. Assalamualaikum, io mi chiamo Zahra e vengo dal Bangladesh. Ciao, io mi chiamo Andrea e vengo dall'Honduras. Ah, l'Honduras. Quindi ti dici, hola, mi chiamo, da dove vieni tu? Ciao, io mi chiamo Andrea. Ok. Hello, mio nome è Giovanna. Vai, vai. Vai, vai. Ma tu parli in inglese? Perché parli in inglese? Io mi chiamo te e vengo dall'Italia. No, mi chiamo Mattias e vengo dall'Italia. E tu sei? Io sono Maria e vengo dal Marocco. Ma come ti chiami? Ella. Ella. Ciao, io mi chiamo Gianna e vengo da Bangladesh. Ah, stupendo. Ciao, io sono Daria e vengo da Roma. Ciao, io sono Karim. Ciao, io sono la maestra Lara e sono Umbra. Luciana. 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 Ok, Luciana, tu dove vieni? Luciana. Dall'Italia. Tu sei romana. No. 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 Sì, sì. Noi siamo la terza C e questa è la nostra aula. Di là ci sta una lavagna e ci abbiamo messo i nostri cartelloni per decorare la classe. Di qua ci abbiamo messo le mandale per farlo più colorato. Ok. E di qua ci sono tutti i nostri cartelloni. Ma mi fai vedere le mandale concretamente che sono cose? Eh, tu sei già. Allora, vediamo, vediamo. Abbiamo messo in due parti così una mandala e l'altra mandala da tutta la classe riempisce la gioia. Ah, questo è per riempire degli oi a questa classe. Ok, ognuno ha il suo. Ok, dove? Abbiamo messo una mappa là. La mappa? Fammi vedere la mappa. L'abbiamo messa perché così capiamo da dove veniamo. Eh sì, capiamo. Qua ci sta tipo tutto il mondo. E questa è la biblioteca. Che è la classe? È un posto dove si lasciano tutti i tipi dei libri e pure questa è la biblioteca. Ah, pure questa è la vostra biblioteca in fattura. È un po' piccola questa biblioteca. Abbiamo una cosa che quando leggiamo a leggio mettiamo il lettore, la data, il titolo della lettura e questo è quando vogliamo prendere un libro in prestito, tipo io prendo un libro in prestito segno qua quanto ho preso, quanto lo voglio riportare, se ho finito o non ho finito. Questi sono i problemi che abbiamo fatto con la nostra maestra. Ma problemi in matematica? Sì, noi li abbiamo fatti sul quaderno e la maestra ha fatto sulle carte. Così che ce li ricordiamo, e così ce li ricordiamo. E qua sistemiamo i libri, i quaderni. Ok, ok. Ciao, la terza C! Ok, 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 la terza C!